Quella aperta nell'agosto scorso a Isola delle Femmine è la prima agenzia del lavoro nella storia del comune palermitano. In due mesi, secondo i dati forniti dal coordinamento dello sportello, sono già 13 i tirocini formativi attivati e 41 i colloqui effettuati. Quindi sono 13 giovani che sono stati avviati alle aziende e nel frattempo abbiamo attivato invece i percorsi di consulenziali per gli altri cittadini, quelli non attivati con tirocini formativi. Io ho fatto 41 colloqui individuali che continueranno nei prossimi mesi. E proprio nei giorni della scadenza delle adessioni a garanzia giovani lo sportello ha già permesso l'accreditamento di molti tirocinanti. Siamo la regione italiana più performante su garanzia giovani con un numero di tirocini elevatissimo. Ecco, queste sono le risposte che noi desideriamo dai nostri partner istituzionali. Il Comune di Isola con intelligenza, aggiungo io, con Lugimiranza è stato uno dei primi a partire. Il nostro desiderio è quello che questa azione sia replicata da tutti gli enti locali. Abbiamo pensato che era importante non delegare ma affrontarla come amministrazione, questo importante problema, che è quello della disoccupazione, per dare un servizio in più ai nostri giovani, non soltanto di Isola delle Femme ma anche dei paesi vicini e anche dei quartieri di Palermo perché l'Agenzia del Lavoro di Isola è uno strumento che serve per tutto il territorio.